Buonasera, benvenuti alla seconda puntata di Perdinci, programma di servizio che raccoglie tutte le vostre lamentele. L'ospite di questa puntata, il quale ci ha inviato un drammatico video appello, è una spalla di geometra, si consiglia la visione a un solo pubblico adulto. Ecco a voi, il video appello. Buonasera, sono una spalla di geometra e io vi chiedo aiuto vi prego aiutatemi. Siamo rimasti in pochissimi qui a resistere, l'altra spalla è ormai interamente occupata dal tatuaggio della lettura preferita del mio organismo ospitante, il bignami del signore degli anelli, la battaglia di magenta tatuata sul fianco sinistro. Degli ideogrammi cinesi che lui crede significhino io amo Tatiana e invece significano, significano di un'altra spalla. Arrestate il latore della presente sulla caviglia, sulla caviglia è tatuata una tigre, una tigre rampante, con in bocca un armadillo rampante, con in bocca una tigre dalla denti a sciabola, le denti a sciabola rampante, anche i denti sono rampanti, sono tutti di rampanti, sono di rampanti, aiuto, aiuto, sulla pancia, sulla pancia, attatatu, oh Dio, buonasera. Mora 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 Mora